I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno tratto in arresto quattro persone per furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tre donne sono state arrestate dai militari della stazione carabinieri di Teggiano, comandati dal maresciallo Francesco Pennisi in flagranza di reato. Le tre ragazze, diciottenne e incensurate, hanno agito all'interno di un centro commerciale di Atena Lucana. Le tre giovani, dopo aver prelevato alcuni capi di abbigliamento dagli espositori, si sono recate nei camerini per provare gli indumenti, rimuovendo dagli stessi con un coltello a serramanico i dispositivi antitaccheggio e occultando gli abiti nelle proprie borse. Le tre diciottenne sono state arrestate nella flagranza di reato e sottoposte agli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Sassano, comandati dal maresciallo Antonio Sirsi, invece, hanno arrestato un 23enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il ragazzo è stato sorpreso in possesso di una dose di stupefacente e all'interno del proprio armadio della camera da letto aveva occultato circa 70 grammi di marijuana. Anche egli è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Un arresto è stato effettuato anche dagli agenti di polizia stradale ieri sera sull'area di servizio di Sala Consilina Nord. Gli agenti hanno infatti fermato per controlli un'auto, una Golf nera, con a bordo quattro uomini calabresi. Uno di questi, un 54enne, a seguito dei controlli è risultato avere a suo carico un provvedimento di rintraccio in quanto evaso dall'obbligo di dimora. Per l'uomo, dopo le formalità di rito, è scattato l'arresto presso la casa circondariale di Potenza.